Un milione di euro da devolvere ai cittadini di Pesaro. È questa la cifra ottenuta dal Comune che si è battuto per essere inserito nel novero delle città più colpite dalla prima ondata di Covid-19. Un milione che si inserisce in un bilancio comunale in equilibrio e che dunque l'amministrazione ha deciso di devolvere alle fasce più deboli, alle fasce più sensibili e a quelle economicamente più ferite della città. 300 mila euro saranno così erogati in buoni spesa, 600 mila euro in bonus da spendere per bambini e ragazzi fino a 14 anni. I restanti 100 mila euro andranno ad aziende e imprese che hanno registrato un blocco dell'attività dal lockdown in poi. Siamo riusciti ad ottenere questo milione di euro importantissimo per essere stati purtroppo uno dei comuni più colpiti nella prima ondata del virus in primavera. Ci siamo dovuti battere in Parlamento per raggiungere alcune risorse ai comuni più colpiti, oltre alle 5 province per le quali erano già state stanziate delle risorse. Grazie alla virtuosità del bilancio del comune e il fatto che abbiamo un bilancio in pareggio, siamo in grado di destinare questo milione tutto completamente ai cittadini pesaresi. Abbiamo deciso di utilizzare dei bonus perché è un unattantum straordinaria. Tre bonus, uno per la spesa, per le famiglie più in difficoltà, un bonus simile a quello che avevamo già fatto ad aprile per Pasqua. Un bonus invece per tutti i bambini da 0 a 14 anni, tranne le famiglie più benestanti che hanno un reddito netto nell'ultimo mese superiore ai 4.000 euro. E un bonus invece per le imprese che hanno avuto sostanzialmente un blocco delle attività, quelle imprese maggiormente colpite con più dell'80% di calo di fatturato. Una piccola risposta, però molto importante, che darà una mano. Il bonus spesa darà una mano a fare la spesa a tante famiglie in difficoltà, contiamo almeno 1.500 famiglie. Il bonus cresci, il bonus bambini, andrà a tutti i bambini da 0 a 14 anni, 100 euro bambino, da utilizzare in città per le spese legate alla crescita. Quindi dal pagamento del nido, all'asilo, ai libri scolastici, ai trasporti pubblici, fino al materiale di cartolibreria, i tablet, i computer e anche le spese sociali legate alle società sportive, alle associazioni nei quali i bambini magari crescono. Quindi un'azione molto importante e dal 2 al 12 novembre si potrà fare la domanda. Da qui ai prossimi giorni renderemo tutto chiaro sul nostro sito, sarà un meccanismo molto semplice, basato sull'autocertificazione e di conseguenza anche veloce. Il terzo bonus va in aiuto alle attività commerciali, sono 100.000 euro, 100 imprese che potranno soffruire e abbiamo pensato a tutte quelle attività che hanno avuto un calo economico dell'80%. I fattori che abbiamo tenuto in considerazione sono anche il fatto che gli altri due bonus vanno a creare un indotto su alcune attività. Quindi abbiamo deciso anche tramite il codice Ateco e facendo uno studio all'interno delle attività economiche e anche con le associazioni di categoria, quali sono quelle attività che sono state più danneggiate nonostante ci sia stata la riapertura ad aprile e anche in futuro quelle attività che comunque continueranno ad avere difficoltà. Ad esempio ve ne cito qualcuna come l'agenzia di viaggio, i tour operator o anche tutto quello che si occupa di pubblico spettacolo o anche le discoteche e abbiamo quindi considerato che all'interno del bonus si darà priorità a queste attività. I buoni spesa saranno diversi, quindi a seconda della linea di intervento e della misura della linea d'azione saranno del valore di 10 euro, quindi abbiamo diminuito il valore di ciascun taglio. Questo servirà per incentivare l'utilizzo anche nei negozi di vicinato, quindi non soltanto supermercati ma per poter essere utilizzati anche in quelle attività di vicinato come può essere il forno, può essere l'attività più vicino a casa. Quindi il taglio sarà da 10 euro e saranno due diversi buoni, di colore diverso, perché uno, il buono spesa, sarà più di natura sociale, quindi sarà destinato a quelle famiglie in difficoltà economiche e l'altra invece sarà un bonus di natura più universale e quindi potrà essere utilizzato soltanto per quelle attività, insomma in quelle attività che accompagnano la crescita dei bambini, dei ragazzi.